Idioti versus imbecilli Argomento che dimostra che i lupi mannari sono idioti e i vampiri sono imbecilli Breve audiolibro umoristico Scritto da Jeronimo Lopez Soldevilla Ogni somiglianza con la realtà è una pura coincidenza, ogni somiglianza con eventi, persone o luoghi attuali, viventi o meno, reali o fittizi, è una mera coincidenza e il prodotto di una febbrile immaginazione dell'autore. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare le cuffie, anche se non è strettamente necessario per fruire dei contenuti. Cominciamo! Se si parte dal ragionamento che la vita è molto breve e gli idioti abbondano nella vita, allora quel poco tempo sarebbe sprecato, se si intende avere a che fare con persone idiote, perché ci sono più idioti che tempo per loro. Sapendo poi che la vita è un soffio, devi essere un idiota, in modo che un altro idiota arrivi, e debba morderti per lasciarti in vita per tutta la vita, e tu continui come un idiota ad avere a che fare con persone idiote. Un proverbio dice, l'idiota grida, il furbo parla e il saggio tace, i lupi mannari gridano, non parlano, e non è che sono silenziosi, ma non possono dialogare perché non sanno parlare, quindi sono solo idioti. Per citare William Shakespeare, la vita è come una storia raccontata da un idiota, una storia piena di chiacchiere e di frenesia, che non ha alcun senso. Beh, non c'è niente di più idiota di una storia di lupi mannari, raccontata da un idiota esperto di idioti e destinata agli idioti. Un altro detto recita, chi si innamora non se ne accorge, ma subito dopo diventa un idiota, quindi innamorarsi di un lupo mannaro che è un idiota, significa essere un idiota al quadrato. È anche vero che i soldi non durano per gli idioti, quindi gli cantropi non si presentano mai con i soldi, primo perché non hanno tasche nei pantaloni e secondo perché non li hanno, e se li avessero non saprebbero cosa farne, e non sapendo cosa fare con i soldi significa che i pochi soldi che hanno non durano a lungo, il che è una chiara manifestazione dell'essere idioti. Se il numero di idioti cresce ogni giorno che albeggia, quando arriva la luna piena il numero si è moltiplicato, e lo ha fatto, in base al fatto che il tempo trascorso si chiama mese lunare, che è di 29 giorni solari, che è il periodo in cui i licantropi escono, e possiamo scoprire in questo, in primo luogo, che escono molto poco e sono quindi esseri autocoscienti, e in secondo luogo, osservare che ciò che fanno meglio quando escono per socializzare, è giocare all'idiota senza. Complessi. Va ricordato che i lupi non esistono in tutte le parti del mondo, quindi ad altri animali viene attribuito un ruolo simile a seconda del tipo di cultura della zona in cui vivono. Ad esempio, nel mondo occidentale si sta sviluppando un movimento femminista che crede nei maiali maschi, in Africa si crede ancora nelle iene maschi quando ci si riferisce agli europei, in altri luoghi si crede nei polli maschi come colpevoli dell'influenza aviaria. In Nord America, gli uomini puzzola sono banditi dagli ascensori. Quindi, se gli uomini maiale, gli uomini iena, gli uomini pollo e gli uomini puzzola sono idioti, perché i lupi mannari non dovrebbero essere idioti? Dopo aver affermato che i lupi mannari sono idioti, così come coloro che ci credono, è altrettanto importante sottolineare che i vampiri sono imbecilli e coloro che ci credono sono ancora più idioti, e ancora più idioti sarebbero coloro che si innamorano di un imbecille. Quest'ultima affermazione mi obbliga a dimostrare che i vampiri sono imbecilli, o che solo un imbecille può essere un vampiro, chissà. Cominciamo col definire ciò che non è, e lo facciamo perché le cose possono essere definite in base a ciò che sono, cioè, un tavolo è un tavolo perché è un tavolo, ma potremmo anche dire che un tavolo è un tavolo perché non è un bufalo, definendo così il tavolo anche in base a ciò che non è. Quindi, un vampiro non è spirituale perché non ha spirito, e se avesse uno spirito non lo userebbe per mancanza di spiritualità, quindi è un imbecille senza spirito. Un vampiro non è un imprenditore, proprio per questo motivo, perché manca di spirito, e se lo fosse non intraprenderebbe nulla perché è un imbecille. Un vampiro non è uno studioso, perché non ha studiato perché non ha un'università, e chi non studia è un imbecille. Un vampiro non ha coscienza, e non ce l'ha, perché non può vedersi nemmeno in uno specchio, e chi non si vede è un imbecille. Un vampiro non ha morale perché le uniche proprietà che cerca negli altri per identificarsi sono proprio le peggiori, e chi cerca il peggio è un imbecille. Un vampiro non è un bohemian giramondo in cerca di eventi o avvenimenti che gli procurino nuove avventure, perché la sua unica intenzione è quella di provocare sempre la stessa cosa, e chi cerca sempre la stessa fine per ogni cosa è un imbecille. Un vampiro non è un sognatore perché non dorme, e chi non dorme mai e quindi non ha mai sognato è un imbecille. Un vampiro non è una piccola sorella della carità perché non può sopportare una donna diversa ogni giorno, e chi non può sopportare di avere una donna diversa ogni giorno, anche se deve sopportarlo, è un imbecille. Un vampiro non è un conoscitore di donne perché non è una sorellina della carità, e se era già un imbecille per non essere una sorellina della carità, è anche un imbecille per non capire le donne. Un vampiro non è un leader perché gli uomini lo odiano, e se era già un imbecille per non essere andato a scuola, lo è ancora di più per non essere stato formato come leader in un mondo competitivo, e ancora di più per essere un individuo odioso e privo di leadership, cioè il tipico capo imbecille. Un vampiro non è un autista di autobus, anche se fa cose barbare che finiscono in incidenti, e chi ha passato tutta la vita a produrre incidenti come un barbaro è un imbecille. Un vampiro non è un chirurgo plastico, anche se ha come mercato naturale la vanità delle donne, e chi vive inseguendo la vanità delle donne senza essere un chirurgo plastico è un imbecille. Un vampiro non è un devoto perché non può candidarsi alle elezioni, ma essendo già un imbecille per non avere un'anima, potrebbe benissimo farlo per esercitare la politica, e chi si presenta agli elettori come vampiro dichiarato alle elezioni è un imbecille. Un vampiro non è un parrucchiere perché sembra che si faccia tagliare i capelli dalla previdenza sociale, e per farlo bisogna essere imbecilli. Per quanto riguarda ciò che è un vampiro, la sua identità e le sue caratteristiche intrinseche, vale la pena di ricordare che un vampiro è un perfetto stronzo per i seguenti motivi. Perché non cerca e non fa il difficile con le donne, e così verifica cosa vuol dire farsi succhiare davvero il sangue mentre si sente cavare gli occhi con cene costose che lasciano sempre mezze piene, regali inutili che non capisce nemmeno perché li compra, regalando appartamenti che usano per vedere un altro uomo più giovane e squattrinato. Il vampiro non deve nemmeno fingere di dire alle donne con la massima dissimulazione che ognuna di loro è, in particolare, la sua unica fonte di ispirazione nella sua professione e nei suoi successi, ne deve promettere di dare loro un cognome volgare per i loro futuri figli, né si diverte a farle ingelosire guardando altre donne. Al contrario, va direttamente a prendere il corpo della donna per succhiarle il sangue all'istante, senza emozioni, senza nervi, senza preoccupazioni che l'altra donna lo scopra, senza ricevere insulti o brutte figure. Non vale nulla e, poiché non vale nulla, è uno stronzo. È un imbecille perché dice a tutti le stesse cose che dicono tutti gli uomini, che è solo, triste, che soffre da un'eternità e che sta cercando la donna ideale che starà con lui per sempre. È un imbecille perché quando seduce una donna, lo fa di nascosto e da solo in un luogo dove non c'è nessuno, poiché non oserebbe riuscire a sedurre in un ristorante di hamburger nel bel mezzo di una festa di bambini con i loro mariti che guardano. È un imbecille perché quando sorride, lo fa solo per mostrare i canini. È un imbecille perché indossa un uniforme per sua convinzione. È un imbecille perfetto perché gli uomini pensano che sia immortale e abbia il tempo di avere più donne possibili, e le donne pensano che sia bello e irresistibile perché pensano che possa stare con loro per sempre. E, infine, dire che sia gli idioti che gli imbecilli, o i lupi mannari e i vampiri, non sarebbero mai d'accordo perché sono nemici inconciliabili che tendono ad affrontarsi in qualsiasi momento per quello che sono. Se vi è piaciuta la narrazione, visitate il mio canale dove potrete trovare un'ampia varietà di contenuti e dove caricherò altri brevi audiolibri umoristici. Se vi è piaciuto il video datemi un like, non dimenticate di iscrivervi e di premere la campanella per ricevere informazioni dal canale e soprattutto di condividere. Grazie per l'attenzione. La fine.